E salve a tutti youtubers, qui è Kaleco84 e bentornati su Oculus Rift Games Oggi vi voglio mostrare qualcosa di veramente figo, più che altro perché lo voglio provare e vedrete le mie reazioni sostanzialmente Perché credo che tutti conoscano Back to Dinosaur Island, è una demografica fatta col CryEngine per la Crytek, sto leggendo in questo momento E che è stata mostrata per la prima volta alla Game Developers, alla conferenza degli sviluppatori di quest'anno Iniziamo a parlare italiano che è meglio, non è un gioco, è il primo tentativo di far andare su Oculus Rift qualcosa fatto col CryEngine E credo che sarà una figata pazzesca, ok? Non l'ho ancora provata, ho visto il video su YouTube, ovviamente l'ho visto anche io con me E sono davvero curioso di vedere com'è visto da dentro ragazzi Qua è tutto illuminato perché è più o meno mezzogiorno e siamo in inverno Quindi ho direttamente il sole che mi spara dritto dalla finestra di casa Ma se chiudo tutto non si vede niente, se apro tutto sono illuminato dalla divina qualcosa Quindi ok ragazzi, direi che possiamo iniziare e la smetto di dire cavolate, ok? Ok ragazzi, i suoni già mi ispirano Allora, speravo che sullo schermo apparisse la versione unica Però a quanto pare non è così solo su alcuni giochi succede con i nuovi driver dell'Oculus Le cose stanno migliorando molto, devo dire, con l'Oculus E niente, come ho detto, so già che cosa mi aspetta Però non l'ho ancora sperimentato in prima persona Questo è più un reaction video che una dimostrazione Perché chiunque abbia visto le ultime E3 e robe del genere Questa demo l'ha vista sicuramente Ora sto solo sistemandomi le cuffie Ok, si parte Ok, vediamo cosa è capace di fare la Crytek con l'Oculus Rift Allora Center Ok, questo è per centrare la visuale Sì Perfetto Esk, exit Guarda, spazzatrice, start Direi che possiamo iniziare Mi entra un po' di luce dai lati degli occhi Ma credo che non durerà molto Wow Oh mio Dio, che figo Ok Uh, salve Salve Oh, stai brava Cosa vuoi da me? Uh No, gra- No Uh, 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 uh Stronza È finito? Tiè Il fatto che venga tutto bianco in oro non è bello però Oh, lol Ah, c'erano già i cordi? Ciao Salve No, no Non ci sono io Non ho, no 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 Salve Ok Oh, c'è Oh, c'è Oh, c'è Oh, c'è Ciao Ok, non sembri Ci manca solo il ventilatore che mi spara aria contro e avrei paura Wow Oddio, seguo il mio movimento Ok Wow 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 Ok Ok Oh, god È già finito Ok È finito Ok Ragazzi Che dire CryEngine Sì Ci sta Ragazzi Allora Allora È la prima volta che vedo un gioco così dettagliato graficamente No Sviluppato Sviluppato Una cosa così Una cosa Così dettagliata Graficamente Fatta direttamente per l'Oculus Rift Ok Elite Dangerous Ok Ci sta dietro Anche quello è molto dettagliato Ma credo veramente che Col CryEngine Siamo su un altro pianeta Wow Cioè Era Era come avere il tirannosauro qua Cioè Un pochino più in là di qua Non era proprio a questa distanza Era Sarà stato 5 6 Come fosse stato All'altezza del muro Dietro in fondo No Come averlo lì Gigantesco Wow Wow Fighissimo Non ho parole Sto tenendo l'Oculus Rift qua in mano Così per farlo vedere Così capiti di cosa sto parlando Perché gli voglio tanto bene al mio Oculus Rift E Allora Lo sto usando veramente poco di recente Perché Col fatto che deve uscire il CV1 Ci sono molti meno giochi Interessanti per così dire Credo che molti sviluppatori Si stiano tenendo O stiano sviluppando Continuando a sviluppare Per avere dei giochi completi Al momento del lancio Credo che sia questo il motivo per cui Ci sono pochi giochi per il Rift Che effettivamente sono Particolarmente nuovo Particolarmente innovativi Credo che Nel momento in cui uscirà Il CV1 Tempo un mese Due al massimo per le ottimizzazioni E inizieranno a uscire Tanti di quei giochi Anche copie delle copie Ma ne usciranno veramente tanti Soprattutto horror Soprattutto demo visive Soprattutto simulatori Questa è la mia previsione Horror Demo visive Simulazione Altro tipo sparatutto e cose Probabilmente ne vedremo qualcuno Giochi puzzle Giochi anche in terza persona Quanto pare si possono fare Ne vedremo Ma non saranno Così tanti Come Come gli horror E i simulatori Assolutamente E poi anche Come ho detto Le demografiche Detto questo Ragazzi Questo è Back to Dinosaur Island Se avete un Oculus Rift Provatelo Perché è gratuito Su Steam È uscito Ieri O l'altro Ieri Perché credo che questo video Uscirà domani Domenica Oggi è sabato La demo è uscita Venerdì Wow 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 Ragazzi Sul serio Io non posso farci niente Dal pensare che Non tanto l'Oculus Rift Perché l'Oculus Rift Sarà uno dei tanti Ma la realtà virtuale Ragazzi È il futuro Cioè Tu non puoi Dopo aver giocato A un gioco di corse O a un gioco di Simulazione di navi spaziali Dopo averlo giocato Con questo affare addosso Non puoi tornare indietro Non puoi Perché Non Sei dentro Sei lì Ed è completamente diverso Dall'averlo proiettato Su uno schermo Questo è il futuro Ragazzi Se se la giocano bene I prossimi 5 10 anni Saranno qualcosa Di fantastico Ma veramente Fantastico Io sono troppo contento Di essere nell'età giusta Per giocarci Per permettermi Di comprarmi per i fatti miei Col mio lavoro Non dover rompere le balle I miei genitori E per poterli capire Comprendere E godere Appieno Sono veramente contento Di essere nato Nell'anno in cui sono nato Guardate È meraviglioso Ok ragazzi Detto questo Sono anche un pochino invidioso Di quelli che sono molto più giovani Di me Perché quando io sarò troppo vecchio Per queste cose Loro invece potranno ancora giocare Per un po' di anni E avranno roba ancora più figa Ok ragazzi Qui Kaleco84 Questo era Oculus Rift Games Anche se non era un game Back to Dinosaur Island Noi ragazzi Ci vediamo alla prossima Questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto In tal caso Cliccate se mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Per altri video Come questo Ricordate che mi trovate Anche su Twitter Hitbox e Facebook Di nuovo Sfasciate il tasto Mi piace Fatelo per me ragazzi E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ciao Ma si Dai un altro giretto